generazioni, ma è fondamentale anche per le famiglie. E guardi, quando penso di scuola, io penso i bambini, ma penso i bambini quelli più piccoli. Il trauma che hanno vissuto e che stanno vivendo i bambini della scuola materna, dei nidi, lo capiremo forse fra qualche anno. E c'è un problema, dobbiamo dare una risposta, dobbiamo avere una strategia come c'è una strategia sanitaria, dobbiamo avere in fretta una strategia di ripartenza della scuola. Quindi, in definitiva, signor Presidente, pieno e leale sostegno in questa difficile e complessa negoziazione, che sappiamo la vedrà certo attorniato in alcuni casi da diffidenza, perché l'Italia spesso, quando si parla di economia, quando si parla di regole, è vista come un soggetto che alla fine cerca sempre di svicolare, ma ha ragione chi ha detto prima di me che è fondamentale portare in quella sede una visione, un'idea. E per noi, se ci è consentito questo suggerimento, il tema vero è che si esce da questa crisi, insieme, non da soli, non alzando ognuno la sua banderina regionale, territoriale, nazionale, non con le logiche dell'autarchia, si esce insieme in Europa e si esce insieme in Italia. Insieme possiamo fare questo salto e dare questa risposta, senza primi della classe, con umiltà e però con uno spirito solidale e comunitario, in Europa come in Italia. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente del Consiglio, l'hanno già detto anche altri colleghi, 25 mila morti, siamo di fronte a una guerra. La rinuncia alle libertà personali, se la memoria non mi inganna, l'ultimo coprifuoco è stato nel 1943, Badoglio. Abbiamo obbligato tutti a chiudere, negozi, imprese. Abbiamo davanti un'emergenza drammatica economica, 150 miliardi di prodotto interno lordo che rischiano di saltare quest'anno. E ancora di più una drammatica emergenza sociale. E allora, nei pochi minuti che ho a disposizione, riprendendo anche una citazione della collega Gelmini, ha citato Papa Francesco, ho visto il Presidente della Repubblica che l'ha ringraziato, il Presidente del Consiglio, nella giornata di Pasqua, il suo messaggio è stato «non è più il tempo degli egoismi» e due o tre giorni dopo addirittura ci ha tirato un'altra bella sberla, dicendo «i partiti pensino al bene del Paese, non a quelli del proprio partito». Ma che cos'è il bene del Paese? Ecco, io voglio essere molto chiaro su questo. Il diritto alla salute è parte del bene del Paese, ma non è l'unica e essenziale bene del Paese. C'è il diritto alla salute, l'articolo 32 della Costituzione, ma la vita non è solo la cura medica, la vita è fatta di nascita, di amore, di accudimento, di istruzione, Ministro dell'Istruzione, di educazione, di lavoro, di riposo, di cultura, di libertà, di politica e di economia. Ecco, una cosa che non mi è andata nel dibattito di questi giorni è che noi mettiamo in contrapposizione la salute e l'economia. L'economia, che ne pensi qualcuno, non è il regno del Dio denaro, quello si chiama usura. L'economia è la vita quotidiana della gente, che chi contrappone economia a persona non ha capito niente, né dell'uomo né dell'economia. Non c'è vita senza economia e non c'è economia senza quella che non si preoccupa della vita delle persone. Allora dobbiamo ripartire, l'ha toccato nel suo discorso, dobbiamo ripartire. E da dove si riparte? Dall'impresa, dal lavoro, dall'istruzione, Ministro dell'Istruzione, dall'istruzione. L'istruzione è una delle principali risorse che noi abbiamo e non si capisce perché si discute di riaprire le imprese e non si affronta anche il problema di riaprire le scuole. Lo stanno facendo altri. Il messaggio che lei dà, tutti i promossi, senza giudizio, è diseducativo. Lei è quello che dice perché le terze medie non possono tornare a scuola, perché le quinte liceo che hanno 18 anni, magari appunto distanziandosi, non possono riprendere. Nei miei tempi gli studenti protestavano dicendo mi avete rubato il futuro. Rischiamo di rubare il presente ai nostri studenti. E allora più risorse alla scuola, alla scuola pubblica, quella statale, quella paritaria. Ma affrontiamo questa sfida, riportiamo dal sostegno alle famiglie. E allora, vede, signor Presidente del Consiglio, ripartiamo dalle imprese, l'unità si fa nella differenza, nella diversità e anche le critiche e anche le opposizioni dure che portano la voce di un pezzo di questo Paese servono a costruire e a dare risposte. Noi, l'8 marzo, avevamo detto, ci eravamo ritrovati, zero burocrazia, risorse per tutti e subito. Che cosa è successo? Il fattore tempo è determinante. Che cosa è successo da quel decreto Cura Italia? Quanta è la burocrazia ancora? Lei se lo sa che il 17 marzo abbiamo fatto un decreto e il 3 aprile l'Agenzia delle Entrate ha mandato a tutti i commercialisti 76 pagine di istruzione per 120 articoli di un decreto. Lei lo sa, ma noi lo diciamo anche accuratamente, perché questo è il punto che la Cassa Integrazione oggi non è ancora stata presa. Bene, abbiamo detto, le banche date e anticipate i soldi. Che cosa fanno le banche? Chiedono la garanzia del lavoratore quando prenderà i list. E se la garanzia non basta, non gli basta. Sa che cosa lo chiedono? All'imprenditore. Ma allora perché non diamo i soldi all'imprenditore? Che così almeno paga il dipendente e forse arriviamo prima. Vede, sa cosa c'è? Qual è il problema? Quanti adempimenti per 25 mila euro? Oggi Patuanelli ha detto un giorno. 18 adempimenti per avere 25 mila euro. E chi chiede 25 mila euro? Non a fondo perduto. In prestito. Cioè li restituiamo. Chi lo chiede? La piccola impresa? Ma quella dovrà chiedere due, trecento, quattrocento, cinquecentomila euro. E allora cosa chiediamo alle imprese che chiedono quattrocento e cinquecentomila euro? Sei anni di restituzione. La Germania dieci. Patuanelli ha detto, cioè, Gualtieri Gualtieri ci ha detto, non si può sei anni, dieci anni, perché l'Europa non vuole. Ma mi scusi, la Germania è in Europa come noi o no? E perché la Germania chiede dieci anni di restituzione e noi ne chiediamo sei? Queste sono le questioni che dobbiamo spiegare ai nostri, alle famiglie, ai lavoratori. Una famiglia americana da un giorno all'altro ha ricevuto 3.400 dollari, moglie e marito e due figli, da un giorno all'altro. E non gli hanno chiesto niente. E guadagnavano 75.000 dollari o 150.000 dollari. Qual è il punto? Vede, questa è una sfida culturale. Ci fidiamo o non ci fidiamo delle persone? Ci fidiamo delle imprese o non ci fidiamo? Sono la nostra risorsa o no? Se muore un'impresa, se chiude un'impresa, chi darà lavoro? I 50 miliardi che metteremo, dove li diamo? All'assistenzialismo o al lavoro, a far vivere le piccole, le micro, le medie, le grandi imprese, i professionisti? Perché non diamo, anziché la cassa integrazione, non diamo a tutte le imprese che non mettono cassa integrazione ai loro dipendenti e che gli pagano i dipendenti zero contributi? Non devono dare i contributi. È una risorsa, è un modo diverso che noi dobbiamo avere. Ecco, concludo. Concludo perché il tema, per ritornare alla questione iniziale, l'unità è nazionale. Noi vogliamo lavorare insieme perché, come diceva Bulgakov nel Maestro di Margherita, la realtà è testarda e non sta dietro ai nostri calcoli politici e prima o poi ci presenterà il conto. Ma non lo presenterà solo a noi politici. Sarebbe grave, ma non è neanche tanto grave. Il fatto è che lo presenterà gli italiani, il cui interesse, dei cui bisogni, del cui benessere. Noi abbiamo il dovere di occuparci. È per questo che è una sfida comune. È per questo che riguarda la maggioranza, l'opposizione e il Governo. Ma dobbiamo volerlo e dobbiamo avere il coraggio, anche se stiamo sbagliando, di accettare le critiche e di modificare la strada. Grazie. Grazie. Deputata Rossini, prego. Qualche giorno fa lei, Presidente, ha detto chiaro e forte ai nostri partner europei che oggi è il tempo di una risposta europea unitaria e solidale. E lo ha detto mettendo in campo una strada nuova, apprendo una strada nuova, riuscendo ad aggregare già uno zoccolo di Paesi che ci crede. Quello cioè di pensare a un'Europa che possa dotarsi di strumenti finanziari propri e quindi un'Europa che si stacchi da quel limite che è quello del voto unanime che non permette di gestire in modo unitario anche una crisi come questa. Io faccio parte della Commissione Politiche Europee e so quanto è eccezionale questo ed è già un risultato. Tre mesi fa sarebbe stato impensabile proporre questa strada nuova.